Ha registrato una forte impennata il settore giovanile del basket del CSI. A due anni dalla sua nascita, quest'anno sono 33 le squadre in gara, con un totale di quasi 400 tesserati, la cui età è compresa tra i 7 e i 15 anni. La crescita delle adesioni è notevole, se si considerano i numeri dello scorso anno. Erano 250 i bambini e i ragazzini iscritti al campionato, con un totale di 20 squadre in gara. Tra le squadre di basket che hanno fatto crescere i numeri del settore giovanile c'è quella della polisportiva Grassobio. La società c'è da 4 anni, l'idea è quella pian pianino di portare, di far crescere il settore giovanile, in modo che diventi a tendere la prima squadra di Grassobio, sia fatta tutta da ragazzi di Grassobio. Tutti quelli legati al settore mini basket, che sono circa una trentina, 30-35 iscritti. Rispetto all'anno scorso abbiamo acquisito col mini basket 10-15 ragazzini in più. A voler lanciare il settore junior c'è anche il brusa basket di Brusa Porto. Il settore giovanile speriamo nel giro di un paio d'anni di avere qualche ragazzo in più, per fare più squadre, e poi puntiamo sulla squadra del CSI. La squadra c'è da 5 anni, gli iscritti sono un centinaio, abbiamo la squadra CSI e gli Aquilotti. In squadra ci sono un po' di ragazzi dai 20 anni in su e comunque anche altre persone dai 30 anni ai 30-35 anni.